Golden Volley batte Volley Reggio Emilia 1952 3-0, siamo con la top scorer Elena Donida, una partita che dovevamo vincere e che abbiamo vinto. Sì, finalmente la tanto aspettata vittoria è arrivata, fortunatamente siamo state brave perché siamo scese in campo con la giusta concentrazione sin dalle prime battute. All'inizio abbiamo fatto comunque un po' di fatica ad entrare in partita però diciamo che ce l'abbiamo fatta. Cosa ti è piaciuto di più oggi della squadra rispetto anche alle scorse partite in cui avevamo solo fatto tre punti in dieci partite e oggi in un'unica gara abbiamo raddoppiato i punti in classifica? Allora, la cosa che mi è piaciuta di più è che abbiamo giocato tranquilla e con il sorriso sulle labbra, quindi essendo così serene la partita poi va via meglio. Poi via via sono venute tutte le altre cose, tutti i vari meccanismi del gioco e quindi è andata bene così oggi. La prossima settimana un'altra partita importante e fondamentale per il cammino della Golden è l'Ecco, adesso bisogna iniziare anche a fare punti in trasferta perché c'è maledettamente bisogno di uscire da questa zona nera, chiamiamola così. Sì, noi ce la metteremo tutta come ce l'abbiamo messa questo sabato, speriamo di andare in campo con la giusta determinazione, con la giusta grinta, sempre serene perché tanto ormai voglio dire dobbiamo stare semplicemente tranquille, le cose le sappiamo fare, dobbiamo solo dimostrare comunque di avere anche quel po' di carattere che in queste partite ci è mancato. Un 2012 iniziato molto bene, un ringraziamento Elena Donida e alla prossima. Grazie a voi, ciao.